Lei è Penny. Due mesi fa i suoi genitori sono morti in un incidente d'auto. Da quel momento non ha più parlato. Penny ha bisogno di una madre. E vorrebbe che fossi tu. Io? Se prendessi Penny in affidamento e le cose andassero male, io non so se ce la farei. Non potrei sopportare di perderla. Ma io ho paura. Questa è la tua scatola delle paure. Se un giorno avrai paura o ti sentirai sola, saltaci sopra e passerà. E funziona. Io non posso prometterti di essere perfetta. Ma posso prometterti che ci sarò. Di giorno, di notte. nelle guzzanghe ripiene d'acqua, nelle stanze disordinate. Tu dimmi solo di sì. E io sarò la tua mamma. Per sempre. Sì. Sì. Home. Sì.